Musica La nottelotta, l'impavido Duffy è abbastanza coraggioso per combattere contro Crusher Eh, lo scopriremo Io intanto mi faccio un giretto da queste parti che qui è pieno di soldi Allora, lasciamo le casse in acqua a Duffy Con Bugs ci occupiamo di tutto il resto Tra l'altro sono sicuro che quei pesci ci faranno danno Ok, dobbiamo andare là sopra noi Eccoci qua Oh no, più avanti Eccoci qua Calmo Ok, calmi Dobbiamo arrivare là sopra C'è di nuovo Titti e Silvestro Io continuo a perlustrare tutta l'area Fino ad ora l'unica area che mi ha dato fastidio riperlustare è stata quella del Louvre Perché era veramente incasinata E non si capiva dove fossero tutte le cose No, non si passa di qua, cavolo Neanche se provassi a fare il furbo non ci arrivo No, no, no Allora, calmi un attimo Se dobbiamo andare da quella parte Come ci arriviamo? E neanche salendo qua sopra mi sa Eh, esatto No, forse Abbiamo bugato di nuovo il sistema Forse Sì Sì, 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 sì Sono abbastanza sicuro che il gioco non intendesse che io facessi questo È un invasio Certo Certo Ah, ma si potevano rompere Ma scusami, ma prima non me l'ha fatto fare Che bugia Oh Ma Non posso Scusami Questo è palese che io Deba saltare sul muro Ma lo può fare solo Duffy Questo mi stai dicendo Duffy dov'è? Ah, fantastico Quindi è solo un'aria per bugs questa Oh, cavolo Vabbè Probabilmente Per prendere Questa statua Devo fare un sacrificio Ecco fatto È andata così Eh, lo so, lo so C'hai ragione pure tu, eh Però crede di aver preso tutto Vediamo se si nasconde un'ultima statuetta qua dentro No Però magari nell'erba Questo è un ottimo punto Se dobbiamo farci un bel po' di soldi Las Vegas Se per le prossime zone Non abbiamo abbastanza di nero Però i soldi in acqua ci sono Quindi in teoria Duffy dovrebbe venire E allora perché ci dice che non può raggiungerci? Mmm Forse perché dobbiamo Fare l'incontro E poi possiamo venire qua Ma a quel punto Non ci serve realmente a nulla No Non possiamo proprio farlo venire qua Duffy Dobbiamo fare a botte E poi probabilmente Possiamo farlo ritornare Cosa ha detto Duffy? È subito scomparso Ed eccolo Quindi Andiamo dall'altra parte Ecco qua Grazie Bugs Vediamo se c'è una statua Perfetto Quanto siamo? 15 Non le troverò mai tutte Oh ma guarda Vai Duffy Vai a fare a botte Da questa parte però Grazie Mamma mia Sono un toro scatenato Mamma mia Eccolo qua L'impavido Duffy Vai Duffy Entra dentro E vai a fare a botte Cosa dobbiamo fare? Devi fare tre punti per vincere Ah vabbè ma è un incontro easy quindi Devi probabilmente smashare i tasti per vincere Ancora cerchio sarà? Sì Questa è proprio una questione muscolare ma Letteralmente del giocatore eh Qua devi avere La forza di continuare a schiacciare cerchio A una velocità Maestosa Tra l'altro stavo guardando La gente nello sfondo Vedo Il cane Vedo Lola Vedo di nuovo Taddeo Vedo Pepe Credo di vedere anche Speedy E anche Taz C'è Taz Sì 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 Che male Vittoria Che esagerazione Che esagerazione Duffy E ora vai e prendi quella scimmia Sempre col costume se puoi eh Di qua di qua Dov'è? Eccola No Ah proprio col costume non cambia nulla l'animazione Sono sperato eh Trova Yosemite Usa Taddeo Per trovarlo In che senso usa Taddeo? Allora di nuovo Andiamo a sparare 7500 dollari precisi precisi avevamo eh Avevamo Eh snap snap Dai andiamo a sparare Pam Andiamo Dobbiamo usare Taddeo ha detto eh Ma in che senso usa Taddeo? Intende forse usare i palloncini? Colpisci Taddeo Ok Non resisto alla tentazione Sono loro Sono loro Bugs Tocca a te qua Altro che E piede al cambio per un po' Duffy No Esatto Non puoi fare questo Tu puoi fare questo Ah Ma ho visto la rana scusami Ma prima non era lì Ho sbaglio Vabbè Andiamo Da questa parte Perfetto Perfetto Ampava Para Para No troppo Non è troppo in là Preso Dove siamo Ah siamo dall'altra parte E là Ste onde così Ondose Ok Quindi siamo Dalla parte Opposta del cartonato Ora E Sono apparsi altri palloncini Ok Calmi un attimo Ma io volevo andare a prendere la statua Aiuto Aiuto Ah Ho capito che minigioco è Ho capito il minigioco Purtroppo L'ho capito troppo tardi Sei stato fortunato Sei stato fortunato Ienchi Preso Come No dove mi hanno preso Vabbè Adesso L'abbiamo capito Adesso Ma dai Adesso l'ho capito meglio E facciamo easy No Ma in realtà La strategia migliore è Continuare a cadere Uh Palloncino blu Palloncino blu Dammelo Eh Vabbè Sprecato Andato Lo dici tu Lo dici tu che non posso schivarlo per sempre Fermati lì No E dai Mi hanno fregato in due Preso Aspetta 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 Dammelo Dammelo Preso No In realtà Sei tu che ne hai di più ora Allora Ah Fuck Vabbè Prende Prende Preso Fermo lì Smette di muoverti Preso Andata Vittoria Allora Prima di prendere quella scimmia Tanto Le statue Le statue Non mi aspetto Non mi aspetto niente di diverso Eccolo qua infatti Veloce come la luce E' sempre quello Dobbiamo raggiungere 422 questa volta Eh vabbè Infatti il gioco è sempre quello Non mi aspetto